Manifestazione della FLC CGL a Roma, siamo qui con Claudia Saputo, docente precaria specializzata e abilitata nella materia, specializzata su sostegno. Claudia è un po' l'emblema dei precari italiani. Claudia racconta la tua esperienza che è fatta anche di pendolarismo per raggiungere la scuola di servizio ogni giorno. Sono una docente precaria specializzata sulle attività di sostegno per le alunne e gli alunni con disabilità, specializzata quest'anno a giugno, sto facendo anche il percorso di abilitazione, sono precaria da 5 anni. Vivo a Roma ma lavoro nella provincia di Latina e quindi sono pendolare. Cerco di conciliare tutto, formazione, lavoro, da mamma, sappiamo che non è facile. Non è facile per vari motivi perché questa condizione di precarietà a cui ci obbliga il governo ci impone una vita di sacrifici e dove non è facile programmare, avere una stabilità perché quando finisce il contratto il 30 giugno si hanno problemi a pagare il mutuo, la retta del campo estivo dei propri figli perché non si può contare sull'arrivo sicuro, certo, in tempi stabiliti della Naspi ad esempio. Quindi tutto questo ci fa vivere in uno stato di precarietà e la famosa continuità didattica tanto sbandierata dal ministro Valditara è solo una retorica vuota perché la vera continuità didattica la si ottiene solamente con le assunzioni a tempo indeterminato quindi con la stabilizzazione dei docenti. I docenti che hanno tutto il diritto di essere assunti perché docenti come me ce ne sono tantissimi che sono specializzati, abilitati, hanno anzianità di servizio, stanno nelle gradatori prima fascia ma tutti gli anni fanno fatica a prendere un incarico per un algoritmo che a volte gira come secondo dei principi che non sempre, come dire, una macchina si può inceppare e quindi tutto questo è un'ingiustizia. Io vengo da un'altra professione e ho sempre avuto l'idea di insegnare, mi sarebbe sempre piaciuto quindi non appena ho potuto ho mollato il vecchio lavoro per provare appunto ad insegnare dico provare perché non l'avevo mai fatto e avendo fatto l'esperienza non ho più lasciato a costo di sacrificio appunto ne vale la pena? Sì. Il problema appunto diceva bene è l'ampliamento dell'organico di diritto perché tutti gli anni in sostanza vengono dati questi incarichi in deroga proprio perché l'organico non viene ampliato da tempo a proposito di questo io volevo ricordare che la FLC CGL che da marzo con noi e al nostro fianco durante tutte le nostre manifestazioni, tant'è che abbiamo ottenuto a maggio le assunzioni da prima fascia GPS grazie alle proteste supportate dalla FLC, volevo ricordare che appunto la CGL FLC ha realizzato una piattaforma si chiama Zero Precarietà dove praticamente è proprio un piano per ampliare l'organico di diritto e questa è la cosa fondamentale.